Ciao amici, buongiorno, siamo qui per fare la seconda parte del video di lezione di volo. La prima parte la vedete qui, ho qui con me lo Xiaomi X8 SE, faremo le prove di volo utilizzando la prua nelle direzioni nord, sud, est, ovest e impareremo quindi i comandi con il drone orientato diversamente. Sigla! Adesso prendo il drone, lo facciamo partire e vedremo come utilizzare i comandi a seconda dell'orientamento della prua del drone. Eccolo qui, lo vedete, lo Xiaomi X8 SE, lo conosciamo, abbiamo fatto il test nel video che vedete qui sopra, adesso lo facciamo decollare e orienteremo il drone con la prua in quattro posizioni differenti. Tanto per non farci mancare niente, il maledetto richiede l'aggiornamento, vabbè. Facciamo questa lezione di volo col Parrot, fortunatamente ne ho portato un altro. Ecco, mettiamola fuori telecamera. Abbiamo il drone orientato con la prua di fronte a noi, con questo stick, lo vedete, lo sto muovendo, io faccio ruotare il drone sul proprio asse, sul proprio asse centrale, si chiama lo YOW, sostanzialmente quindi il drone mi ruota, sempre lo stick sinistro io alzo e abbasso il mio drone, mentre con la parte dei comandi dello stick destro io mando il drone avanti, indietro, a destra e a sinistra. Naturalmente tutto questo è abbastanza, diciamo, semplice, fino a che il drone ce l'ho con la prua messa davanti a me. Immaginando di avere il mio controller come se fosse il drone, questa è la prua, questa è la pupa del drone, se io ho il controller orientato come il drone, quindi con la prua davanti, se io faccio i movimenti degli stick destro-sinistro, il drone va a destra-sinistra, se io faccio il movimento con lo stick avanti e indietro, il drone viene avanti e indietro con lo stesso orientamento, ipotizziamo a questo punto di girare il drone, di ruotarlo invece con la prua verso la nostra destra. Se io faccio i comandi controllo orientato come il drone e voglio mandare il drone in avanti, farò questo. Vedete? In realtà in questo momento sto facendo un roll laterale. Se io voglio portarlo verso di me, farò questo. Se io voglio mandarlo indietro, farò questo. Se voglio mandarlo avanti, farò questo. Questo è un metodo che possiamo utilizzare all'inizio per mandare il drone dove vogliamo, pur avendo la prua orientata diversamente dalla posizione naturale in cui la prua è in avanti. Proviamo adesso a girare ancora il drone verso la nostra, sul proprio asse destro, quindi a questo punto il drone avrà la prua orientata verso di me, quindi esattamente in posizione inversa. È come se il controller, quindi il drone, fosse orientato così. E farò le stesse cose, per cui se voglio mandare avanti faccio così. Se voglio portarlo verso di me, faccio così. Destra così e sinistra così. È chiaro che è un trucco, non utilizzate il controllo in questo modo. Sto cercando solo di farvi capire come reagisce lo stick diversamente rispetto all'orientamento del drone. Ora dotiamo di nuovo il drone con la prua in ultimo grado, diciamo verso ovest per così dire. E a questo punto è come se il drone fosse orientato in questo modo. Quindi se io mando lo stick, voglio andare avanti così, avete capito ormai non li sto a fare tutti, no? Però in questo modo è chiaro, io non posso immaginare di utilizzare il drone in questa maniera. Io dovrò sempre immaginare di avere il controllo in questa posizione. Quindi potete immaginarlo un po' come preferite. O orientato in questo modo, o orientato così, ma dovete immaginare che il comando del pitch avanti o indietro, roll destro-sinistro, segue l'orientamento della prua. Facciamo adesso l'ultimo esercizio. Giriamo il drone, questa volta tutto con la prua orientata dalla parte opposta a destra. Quindi per lo stesso principio di quello che ci siamo detti prima, cosa farò? Se voglio portare il drone a destra, chiaramente do il pitch in avanti perché la prua è a destra. Se voglio portarlo verso sinistro, do il pitch indietro perché la prua è sempre a destra. Se voglio avvicinarlo verso di me a questo punto, siccome la prua è a destra, cosa farò? Non farò altro che dare il pitch destro, il roll destro, scusate. Se voglio allontanarlo, dovrò usare il roll sinistro perché la prua è a destra. Ok? Bene, abbiamo fatto quindi questo esercizio. Proviamo adesso a mettere il drone in un orientamento che non è né con la prua a destra né a sinistra, ma come vedete è a 45 gradi. Quindi come faccio a capire adesso qual è la prua del drone? Semplicemente se porto avanti, vedete che il drone va verso una componente che è fatta avanti verso destra. A questo punto è chiaro che se io voglio portarlo indietro, vedete, con la stessa direzione, non farò altro che fare. Se io mando pitch in avanti e pitch indietro, il drone segue questa direzione e non c'è niente di particolare, ma supponiamo che io voglia portare il drone non in diagonale, ma dito verso di me, cosa dovrò fare? Siccome c'è una diagonale ideale che è questa, se io voglio portarlo verso di me non farò altro che mettermi su questa diagonale. Spero si sia visto. Se voglio allontanarlo, lo metto su questa diagonale, lo vedete? Perché la prua è orientata in questo senso, per così dire. Quindi se io lo porto su questa direzione, vedete il drone sostanzialmente procede in maniera dritta rispetto alla propria diagonale. Quindi questo è un altro esercizio che vi consiglio di fare. Credo si capisca abbastanza bene, no? Così, come si comporta il drone. E questo provate a farlo con tutti gli orientamenti possibili. Questo è veramente importante perché all'inizio è fondamentale capire come funziona il drone con la propria prua. Se io adesso faccio ruoto nella direzione opposta, l'ho ruotato a questo punto in una diagonale, quindi ho messo il drone in questa direzione, ripeto, se io faccio questo, viene verso di me dritto, se faccio questo, va in avanti dritto. È chiaro che a questo punto, che l'ho capito, lo posso fare mettendo il mio controller nella posizione naturale, senza dovere naturalmente metterlo, come dire, orientato in maniera strana. Esercitatevi! Solo in questo modo riuscirete, secondo me, a comandare il drone, vedete? Adesso lo porto a me facilmente, lo abbasso, lo mando avanti facilmente, vedete? Bene, ci vediamo per i saluti, lo faccio atterrare, sistemo la macchina e ci salutiamo. Ciao, abbiamo finito il test, ho lasciato l'Oxami lì a soffrire perché mi ha fatto impazzire oggi. Non importa, abbiamo fatto la prova col Parrot, ho cercato di spiegarvi l'utilizzo del pitch e del roll, orientando il drone con la prua negli assi cardinali, anche inchinandolo a 45 gradi. Spero sia stato utile, vi ringrazio, vi invito a seguire il prossimo video, farò altri tutorial alle altre lezioni di volo per insegnare a tutti quanti, insomma, quello che so su come utilizzare il drone, cercando, vi ricordo, di iniziare sempre con i comandi lentamente. Vi ringrazio, attivate la campanellina qui sotto, rimanete iscritti al canale, siete più di 1300, ci vediamo la prossima settimana, ciao a tutti da Adonac, ciao! Grazie per la visione!